Siamo in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, dietro di me c'è il Municipale e sarà la location che ospiterà la prima tappa del Giro d'Italia and Bike del 2021. Sono Claudio e non vedo l'ora di ricominciare le gare per poter ritrovare tutti i miei amici, conoscerni di nuovi e vi aspetto tutti il 6 di giugno al Giro d'Italia and Bike a Reggio Emilia per vedere un bellissimo spettacolo. Buongiorno ragazzi, sono Juliette, sarà la prima volta che corro a Reggio insieme a tanti amici di Andi Bike. E' il 6 di giugno, qui a Reggio. Ciao ragazzi, sono Tanteo. Parteciperò alla gara del 6 di giugno qua a Reggio Emilia del Giro d'Italia di And Bike perché conosco il piacere e l'emozione di essere al via di una gara così bella. Per me il vero risultato sarà, come ormai spesso, arrivare al traguardo. Sono Silvano e non ho mai partecipato alle gare and bike, ma sono sicuro che il Giro d'Italia di Reggio Emilia sarà una bellissima esperienza. Ciao ragazzi, sono Diego. Il 6 giugno parteciperò alla prima tappa del Giro d'Italia a Reggio Emilia con tanta bella gente e non vedo l'ora. Venite perché sarà una bellissima giornata di sport. E poi ho una piccola rivincita da prendermi. Sono Natalia e nel 2018 e 2019 ho vinto la Maglia Rosa del Giro d'Italia di And Bike. E quest'anno ci riprovo e spero di rivedervi in tanti domenica 6 giugno alla tappa di Reggio Emilia. Grazie a tutti.